ragazzi ecco l'acqua vedete vedete sono sull'ambra e stamattina noi l'uno giorno ok 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 vedete perché voi l'uno giorno lo vuoi mettere a fare in questa zetta Francesco ciao ma di questa giornata sta un po' nervosetta cos'è successo cos'è successo cos'è successo sei cambiata io ti vedo troppo nervosa non ci capite mi fai una gentilezza non ti faccio niente una cortesia un favore mi giudi nel bagno che mi ti viene a lavare ragazzi però guardate come si è stimato ragazzi guardate come si è stimato guardate tutta la sua sorella tutta la sua sorella veramente tutta la nostra mamma vi faccio anche se è un po' nervosa ma che lei ma che lei ma che lei e che lei ma che lei com' viide